Ciao a tutti. Benvenuti su. Nome del canale. Oggi abbiamo delle notizie scottanti direttamente dal grande fratello. Nella decima puntata andata in onda ieri sera, abbiamo visto ancora una volta al centro dell'attenzione Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. La loro frequentazione sta facendo parlare molto. Ma c'è un concorrente che sembra non essere affatto contento di questa storia. Stiamo parlando di Samira lui. Ex volto dell'eredità. Che nei giorni scorsi ha iniziato a esprimere le sue remore sulla veridicità della relazione tra Beatrice e Giuseppe. Ricordate che Samira aveva stretto un'amicizia con il bidello calabrese. Un'amicizia che si è allontanata. Secondo Giuseppe. Per via della gelosia di Samira quando lui si è avvicinato all'attrice di vivere. Ecco cosa ha dichiarato Samira. La gelosia. Perché le è dispiaciuto quando non le ho fatto più apprezzamenti. E questa situazione l'ha davvero fatta arrabbiare. Samira ha spiegato che non avrebbe mai potuto parlare male di Giuseppe per interesse o gelosia. Inoltre. Ha aggiunto con molta determinazione. Io mi sento che con i valori non si scherza. Non si scherza ragazzi. Possiamo scherzare di tutto. Le simpatie. Stiamo scherzando. Siamo in un gioco. Ma se tu tocchi le mie cose. Per me sei morto. Quindi. Samira sembra aver tirato fuori gli artigli e sta esprimendo chiaramente la sua opinione sulla situazione all'interno del grande fratello. Cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.